Ma sappiamo tutti che abbiamo bisogno di un difensore centrale in più perché siamo tre per il momento. Speriamo e anche per questo che ho portato tanti giovani, che sia calabresi, capradosi, insomma per vedere se uno può aiutare durante la stagione che sarà una stagione non solo lunga ma con tante partite e Walter lavora su questa cosa e dobbiamo trovare l'uomo giusto per essere ancora più forti in questa stagione. Dopo vedremo, non c'è fretta per trovare questo difensore centrale, dopo se c'è un'opportunità interessante la prenderemo.